L'onda lunga dell'operazione Caucedo prosegue. A circa due mesi dall'operazione che ha portato in carcere 5 persone, fra cui 3 italiani, un colombiano e uno spagnolo, e dal sequestro di circa una tonnellata di cocaina, le indagini della Guardia di Finanza della Spezia e del GICO di Genova, dirette dal dottor Panichi e coordinate dal dottor scolastico della DDA genovese, proseguono senza sosta e lasciano intravedere ulteriori sviluppi. Iniziata il 21 luglio scorso, con il sequestro di circa una tonnellata di cocaina, nascosta dentro un container giunto proprio nel porto mercantile della Spezia e proveniente dalla Repubblica Dominicana, in data 18 agosto l'operazione ha portato allo smantellamento di un'organizzazione di narcotrafficanti operante fra il Sud America e l'Italia, al sequestro di 10 autovetture dotate di doppio fondo per l'occupamento di stupefacenti, 287.700 euro in contanti e 10 kg di hashish. Intanto, dopo aver effettuato delle analisi sulla sostanza stupefacente e la predisposizione dei campioni ai fini processuali, nei giorni scorsi il più grande quantitativo di cocaina sequestrato negli ultimi anni al mondo è andato distrutto. Un carico di morte e al tempo stesso un tesoro sia pure maledetto per un valore di circa 300 milioni di euro è andato letteralmente in fumo, così come previsto dalla legge. Dalla Spezia, dove era stato custodito per oltre due mesi, in un luogo segreto e costantemente sorvegliato dagli uomini della Guardia di Finanza, lo stupefacente è stato trasportato alla periferia di Pisa, dove è in funzione un efficiente impianto di termovalorizzazione che ha consentito la completa distruzione della droga, con le tecniche più idonee per evitare spargimenti di sostanze nocive nell'aria.